Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere venuti e benvenuti a questo convegno dal titolo La musica applicata a sguardi trasversali. Un convegno all'interno di Spinner organizzato dall'Università di Modena e Reggio Emilia da Opera, unità di ricerca che si occupa di industrie creative in collaborazione con il Conservatorio Achille Peri di Reggio Emilia. Ringraziamo innanzitutto gli ospiti di essere venuti per raccontare le loro esperienze nel campo della musica composta per mezzi audiovisivi. Iniziamo la giornata, ci porta il saluto dell'assessorato della cultura di Reggio Emilia, la dottoressa Elisabetta Farioli, a cui lascio la parola. Grazie.